Questo è un intervento da un porto di 1.400.000 euro di risorse provinciali e regionali, 999.000 euro a base d'asta. Il lavoro si è concluso con tre mesi di ritardo perché il tempo non ci ha dato una grande mano. È un lavoro notevole di messa in sicurezza di una parte importante della città di Montevarchi. Contestualmente abbiamo realizzato piste di servizio per la manutenzione e non ultimo, sugli argini sono stati realizzati dei camminamenti, una pista ciclopedonale che collegherà la futura ciclopista dell'anno che attraversa proprio qui alla foce del Dogana. È un'opera fortemente voluta anche dai Montevarchini. Io ringrazio le maestranze della provincia, ringrazio la ditta che ha lavorato con precisione. Non ci sono stati incidenti e questa è una cosa notevole nel momento in cui gli incidenti sul lavoro vada sottolineato per cui si è lavorato in sicurezza. Dicevo, i Montevarchini sono in uso passare su questa strada, lo dicevo, la festa di Carnevalino e il giorno dopo l'ultimo di Carnevale, il primo giorno di Quaresima, vorrei fossero qua giù a vivere questo luogo restituito alla città. Ecco, lungo il percorso, in riva sinistra del Dogana troviamo tutta una serie di cartelli esplicativi che spiegano le ragioni storiche del 1750 e tutti gli interventi sono stati fatti successivamente.